È successa una cosa sulla quale avevamo puntato da tempo, annullamento del bando di gara dei 52 stabilimenti, insomma una cosa che ci riempie di gioia. Abbiamo lavorato sodo per un anno, dal professor Cateri Calacchi purtroppo non c'è più, al professor Zunarelli, insomma l'avvocato Cialia, tutti hanno lavorato ottenendo un risultato in un certo momento quasi insperato. Però ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, annullato il bando significa che tutte le evoluzioni fatte nella giunta 5 Stelle, va detto con chiarezza, sono state annullate. Non c'era il PUA, non si poteva fare, l'avevamo detto, oggi insomma usciamo con un sorriso. Ha raccolto già qualche opinione dei suoi colleghi, che cosa dicono qui sul territorio, gli imprenditori del mare sono contenti oppure no? Beh, molto soddisfatti, la notizia è bomba, nel senso che l'aspettavamo tra una decina di giorni, il TARA ha voluto anticipare, forse ci ha voluto far fare una stagione tranquilla e serena, insomma. Ma anche da parte del municipio, ho ricevuto la telefonata del direttore, adesso ho visto, è una chiamata persa come si dice, mi ha chiamato anche il presidente. Ovviamente, devo dire, il municipio c'è stato molto vicino, aveva capito le nostre motivazioni, insomma c'è stata tutta la questione della delibera fatta proprio dall'aggiunta del decimo municipio, Falcone, insomma, l'ha voluta e l'ha sostenuta e dava proprio indicazioni nella direzione in cui poi è andato il TARA. Colpone.